L'intervista migliore in campo è Sposito De Dam 10 che tra l'altro ha assistito a 2-3, forse pure 3 euro goal da centrocampo, stupendi, complimenti Sposito Grazie Ripetiamo poi la partita contro le Iene, è terminato 8 a 3 No, 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 di più, 10-3 10-3, che è che sottofonda così Sposito, com'è stata la partita? Eh, bella partita, abbiamo dominato, non c'era proprio storia questa partita Peccato per il risultato della partita precedente, abbiamo pareggiato, però... Vabbè, con i Blue Power, sì, sì, mi ricordo bene Però dobbiamo vincere anche quella, così, a punteggio piede Ma adesso accettiamo la squadra di Sergio Per il mio amico Antonio, il gollo al figlio Luigi, giustamente Complimenti Quindi va bene così, una grande prestazione della difesa Complimenti a Dam 10, bravissimi e in bocca al lupo di tutto il peso del torneo Bravi ragazzi, bravi, bravi a tutti